Grazie a tutti. 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 Buonasera a tutti. Buonasera, mi chiamo Regina Pozzo, ho vent'anni e vengo da Caposele e questa sera sfido con il numero 21. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera, mi chiamo Prezio. destro, avanti, destro avanti, G, destro dietro, G, ok, 26, buonasera a tutti, sono Felicona Salzano, vengo da una serie inferiore e ho 22 anni, il mio numero è il 26, 27, buonasera a tutti, sono Anna Chiara Edmondo, ho 26 anni e vengo da Battipaglia, sono la numero 26, 28, buonasera a tutti, sono Simona Cioppi, ho 18 anni, vengo da Gambagno, numero 28, 29, buonasera a tutti, sono Maria Pesantoro, 18 anni, vengo da Salerno e sono la numero 29, 30, buonasera a tutti, sono Mariana Ricurato, vengo da Alpaia e sono il numero 30, 31, buonasera a tutti, sono Angela Vagliano, ho 21 anni e sfiderò con il numero 31, 32, buonasera a tutti, sono Michela Zambello, ho 19 anni, vengo da Castel Campagnano in provincia di Caserta e questa sera rappresento il numero 32, 33, buonasera a tutti, sono Giuseppe Ingero, ho 23 anni, vengo da Battipaglia e sono il numero 33, buonasera a tutti, sono Della Boienzo, 20 anni, vengo da Persano, provincia di Salerno e sono la numero 34. Buonasera a tutti, mi chiamo Serena Vicinanza, vengo da Montecorrivo, Pugliano in provincia di Salerno, 19 anni e questa sera concorro con il numero 35. Buonasera a tutti, sono Nenti Frattino, vengo da Castel 9 in provincia di Lago e questa sera sono il numero 36. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, mi chiamo Miram Nicolino, vengo da Battipaglia e ho 16 anni. Buonasera, sono Imacorata Giordano, ho 17 anni e vengo da Battipaglia. Buonasera, sono Valentino Orlando, ho 17 anni e vengo da Battipaglia. Buonasera a tutti, sono Lucia Di Salvatore, vengo da Serena, provincia di Salerno e ho 17 anni. Buonasera a tutti, sono Annalida Votopapa, vengo da Eppoli e ho 17 anni. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessio Di Salvatore, vengo da Battipaglia e ho 16 anni. Buonasera, mi chiamo Maria Grazia delle Donne e ho 16 anni. Buonasera, mi chiamo Sara Lupo, ho 17 anni e vengo da Battipaglia. Buonasera a tutti, mi chiamo Lisbruna. Mi chiamo Lisbruna, tengo 16 anni e vengo da Battipaglia. Buonasera a tutti, mi chiamo Maria Grazia Regina, ho 17 anni e vengo da Battipaglia. Buonasera, sono Anna Chiara Murolo, ho 16 anni e vengo da Battipaglia. Buonasera a tutti, sono Lucia Pellegrino, ho 16 anni e vengo da Battipaglia. Allora, cosa facciamo? Escono prima dei Mastop, ok? quindi quando il video vi presenta e mi dirà questi sono tutti i ragazzi che ci sono adesso i ragazzi possono andare di fronte alti più no uscite andate di là e uscite in destra quindi parte lei vanno tutti e quattro dietro subito dopo lei si aggancia voi seguite subito dopo lei si aggancia ok? proviamo aspetta falla arrivare davanti senza perlanti gira ok e poi cosa succede subito la seconda di la seconda di fermati fermati ho detto giù parte lei e seguite 16 aggancia di subito non ho detto scendete terza fila vai vai ragazzi scendete vai 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 non sentite scendete su su si aspettate un attimo vai vai scendete ragazze fatele scendere però preleate e fate vai ragazze subito deve essere un trenino che dovete agganciare essere poesia di colori di un'idea L'armonia che aggiusta la realtà, che mi si salia bene, con te sì quel tocco di magia, tra dolcezza e fantasia, troverai la stella che c'è in noi, un'emozione e poi, Miss Italia, troverai la stella che c'è in noi, un nuovo mondo e poi, Miss Italia. Miss Italia Adesso proviamo di nuovo l'uscita, quindi questo è l'inizio, c'è l'inizio nazionale, strutturale, secondo il serenio dice, le ragazze possono andare, ok? Battano le mascotte, vai! Battano le mascotte, è l'inizio, c'è l'inizio, c'è l'inizio, c'è l'inizio, c'è l'inizio. Grazie. 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 Grazie.